ciao amici di youtube ciao amici di twitch ciao amici di marco ground games channel metti ci andiamo a provare un goccio di slave the spy gioco che hanno regalato psm mese di aprile 2000 e 22 allora facciamo di questa allora è un gioco a carte comunque era il plus è il plus del mese di aprile allora lui ha 11 blocca per 5 e frigge 6 danni 6 danni blocca per 5 il costo è 1 invece c'è 8 danni a questi due vulnerabile quindi io andrei a fare 6 danni ok 12 una carta del mazzo 12 oro facciamo 12 oro a tutte e due non è che la carta degli scatti insieme alla pina dicendo che non è che la carta degli scatti insieme alla pina dicendo che non è come una radio che è una pica scontata ok ci sto prendi prosegui allora andiamo a questo che è un punto di domanda in questa frase c'è un aromio buco nel paio di tutto mentre si passa vicino al serpente gigantesco il buco ooooh salve salve cosa abbiamo mai qui salve avventuriero ora vi farò un semplice un infine nella vita che potresti fermate tutto ciò che ci vediamo è vero? adesso vi sentiamo la creatura che si fissa con lo sguardo con un'illusione ah non ho vinto niente guarda ricciolito hanno 5 blocchi 5 blocchi non c'è niente che 6 danni vai 6 danni e uno è dato blocchi 5 dai ok andiamo avanti lui adesso fa la sua mossa fa 6 e quindi ne ha bloccato uno facciamo 6 di danni e questo è andato vediamo un attimo allora dove dicevo? allo giunghi carta metti in mano due ferite e due giochi le ferite sono carte stato ingiocabili bloccare 3 vini dai mettiamo questa qui quindi ho andato a forza di qui quello è 5 e 10 vediamo un attimo questo ce lo bruciamo questo ce lo bruciamo anche lui vai venti oro protezione forse mi bevi o lancia a forzioni domatine sono le usi puoi conservare tra le stacce ho capito allora vediamo un attimo il crito 12 ha tutti due deboli il crito da tecchi di cretore e lì lo scrive il crito 8 dalle tutte le 10 assolutamente sì cominciamo già cominciamo già cominciamo già avere un 47 eh ah 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 cominciamo poi andiamo di 6 poi andiamo di 6 poi andiamo di 6 gli andiamo di 8 anche se c'è solo un unico poi un blocco 5 ah di a di interrogamento non l'avevo fin pa si a dopo con il compito a prezzi a buon tempo levi a di uno ok mi ha portato la parte che era molto la ok però terminato risolvo posizione serra doppia tracca tieni due forze a fin di turno perdi due forze a ok sette danni mescola un disorientamento nella fila si piace questa fuoco fuoco e fiamme fuoco e fiamme fuoco e fiamme che fare riposa forza potenzia una carta curi facciamo un potenziamento di una carta dai facciamo facciamo questa vai colpo più uno andiamo qui dove c'è più domanda mi piacciono un botto a me tutti di domanda ti trovi di fronte al piccolo pipistrallo sul quale piedistrallo no risplende l'idolo dorato osservandoti beffando potrebbe valere molto oro è sicuramente una zampola dai facciamo l'oro corri ricevi 20 danni perdi 6 punti vita massimi ricevi 20 di danno caspita 20 danno porca miseria non è andato per niente bene non è andato per niente bene benvenuto benvenuto oh che si può comprare allora infligge 13 dati applichi a uno debole applichi una vulnerabilità ah ce l'ho sconto infliggi 6 danni aggiuntivo un'altra rabbia agli scarti il nemico perde due fozze e lo vince metti in mano attacco casuale ottieni due fozze peschi tre carte metti in mano una carta in colore casuale beh questo lo compro perchè è in offerta e quindi quando la cosa è in offerta questo si può fare e poi fare il testo di fozze e ho comprato abbastanza ragazzi possiamo anche andare avanti si oh che bello ogni tanto qualcosa di bello da prendere qui ce ne siamo qui sono anche arrabbiati eh dai danni vediamo dei danni è molto bello molto veloce molto pratico e è fatto bene secondo me ragazzi eh ok ok adesso mi voglio passare tutti ok quindi passate allora quattro di danni e poi mi 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 non ho energia no aia raga aia aia raga aia sono arrabbiati con i due fa davanti no vai oh così si fa ok e non so chi dice però ragazzi, eh vicineria 2 milita la finita, caspita, caspita la vedo giura questa partita, uuuuh, ha preso linghi di civiltà da quella giurale, linghi di vulnerabilità ho bisogno di 5 di blocco e gli fa 1 di danno, questo quanto mi fa? 4, caspita, adesso gli da la vulnerabilità quello lì metti in mano 2 milita ok, dai, ti voglio esternare, ok, allora, qualificiamo qui, 4 danni perché non ho altri, caspita, speriamo bene, eh caspita caspita prima facciamo questo e poi ancora posso bloccarmi il problema reale è che credo che la partita dopo io passo con 3 di civiltà ok, questo l'abbiamo fatta ragazzi, 3 di civiltà, pozione, non ho visto la cassa, 2, 2, 2, 5 danni 2 volte, mi piace esattamente, pozione e poi lei mi ha dato 5 de vita, wow ok, questi asi le andate utenti la creazione una creazione che è la creazione bellissimo si Devo parare un po', devo parare un po' questi con gelatine, ma fanno 5 e 5, mi fa 5, porca miseria. Devo... No, non ce lo lo fanno, ma... No, non ce lo devo bloccarmi, non ce lo fanno fuori. Uuuuh... Uuuuh... No, sono... Aiai caramba! Aiai caramba! Nuovo personaggio bello, mi piace! Vediamo quello principale... Compeggio! Esamino delle carte provate, esamino delle funzioni, partecipare una nuova fila ogni giorno, bisogna scoprire più alto. Ah, proprio, c'è anche l'online, amici! Eccolo qui, il personaggio, vedi? E' come con l'altro? Se no, c'è una partita con questo qui? Un altro attentativo, esatto! Più 7, punti massimi, preferisco. Andiamo di qua. Ariccio. Potevo fare un'altra cosa... Questo è il filone... Questo è il filone... Il filone... Non ho fatto tutto quello che dovevo... È solo un blocco... ... ok fai ragione dammi delle carte buone no eh questa solo solo blocchi ah il bello è che si sommano i blocchi eh ho visto i blocchi forse prima non gli usarli ero 10 eh quattro danni quattro danni ok ok forse con una energia per gli scappi eh ok fa due fa due lui quattro danni mettiamo cinque di blocco vai va calcolato va calcolato ragazzi questa partita è molto molto bello comunque allora magari non sarà graficone eh ma io lo trovo molto bello ancora 77 di vita aggiungiamo la carta tutti i nemici perdono sei di forza per un turno esaurisci due destrezza peschi fino ad avere sei carte in mano ok ok andiamo eh comunque allora i mostri chiaramente sono cattonosi e non sono non sono finissimi eh però amici miei è tanta roba bello sei danno sei danno sei danno sei danno come vuol dire uso più otto aspettiamo questo guado quindi ho otto di danno quanto mi fa lui? Si proprio chi è lei sei danno 6 danno vai oh niente niente bellissimo 6 danni devo fare 6 danni 6 danni vai tu non è nemico 4 oh no no mi ha fatto qualcosa quindi fa un bel posto strontone 3 danni 3 danni più 8 scatto questo quindi quanto mi fa lui adesso prendiamo un attimo 4 2 danni 3 danni muori i friggio infeggi 12 anni e hai scattato questo turno infeggi 7 danni per volte peschi una carta e scatti una carta va bene, offerta metti in mano 3 pugni abilità ma magari mi compro l'abilità grazie, grazie, grazie per avermi venduto tutto sostanza di luce, il suo calore potenzia due carte casuali proseguo allora, ogni potenzialmente c'è qualcosa che non va bene c'è sempre una sfiga guarda, sei pronto? gioca oh 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 cosa è il mio dato? oh, posso scriverci una carta da rimuovere nel mare che fortuna sempre le sfortuna riposa, riposiamo, riposiamo perfetto sì, forse è meglio riposare ripartiamo proprio a fuoco vediamo questa ah, ma X nel senso che X tutto ah, ho capito quindi ho sbagliato tantissimo eh, vabbè ok, 6 tagli blocchi 8 ok 8 blocchiamo 5, vai fa 13, eh credo che non mi ha fatto niente lui ha 3 in teoria vediamo quanto mi fa che ho 13 eh, non mi ha fatto niente ah, non mi ha fatto niente soldino o punto di domanda andiamo a punto di domanda oh, boh, boh 66 blocchi poi a 16 mi ha fatto niente non mi ha fatto niente non mi ha fatto niente non mi ha fatto niente ok ok ho un po' a 2 no guardi quella dell'infligio dei danni eh ok 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 e lui fa un sacco d'anno fa 12 di danni quindi è veramente un mostro tosse tra lì togli da quello o nove eh quattro di la tolchi a cacchio questo fa 10 di più qual cosa quell'altro vediamo se possiamo pararci quello c'ha uno ma chi ne è di corto questo non lo fa nulla il prossimo turno 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 ho 12, lui ha 9 e non mi fa nulla ok, lui ha 30 adesso mi fa male mi fa un po' male, 1, 1, 1 facciamo 4 danni adesso non mi fa nulla non mi fa niente la prossima lo fermo chiaramente ragazzi si sta sempre parlando di videoboschi cavolo distillato allora, tutti i nemici perdono a post per un turno un po' dopo per 6 fino al turno prossimo 8 danni per schiena cazzo mi piace questo mi riposo assolutamente ah, ma non mi hai perso tutti i punti tutto 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 ahah gioco cura e cura per 19 assolutamente sì grazie amico uh, calendario maglia oh 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 ah, potevo forgiamo, forgiamo potenziamento di una carta anche il blocco eh a questo punto sì dai facciamo facciamo questo uff sei serio? il boss il boss il boss 240 240 240 siamo seri? un nuovo un po' prima due 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 vediamo quanto mi fa di danno 32 proprio grazie vostra ma se questo G tre volte mi fa 23 7x4 7x4 8x4 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 9x4 9x4 8x4 9x4 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 10x4 11x4 12x5 11x5 11x4 12x4 13x5 14x4 15x4 15x4 andiamo di nuovo 16 fa ma dai ma c'è un barodo non è giusto non è giusto non è giusto non è giusto cattivone 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 una bella ravanata 32 dai ma come fai a battere ma come fai a battere questa 32 va bene tutto ma dai ma va bene tutto ma non è possibile che non è possibile ho 12 quanta anni fa adesso come è non è possibile ah ho fatto un bel po non è possibile e Marco Drums muore male ah 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 vai però mi ha dato un altro personaggio e sono finalmente riuscito ad arrivare al boss comunque è un gioco bello divertente forte incluso nel plus di aprile 2021 Slade the Spire Marco Drums Games Channel è tutto mi raccomando di seguire le mie mega live su Twitch quindi iscrivetevi a Twitch se volete giocare con me mi passate il vostro lì e si possono fare delle gare a Gran Turismo o a Warzone però adesso Warzone è un casino quindi a Gran Turismo seguite sempre il canale di Youtube dove vedete questi video di tantissimi giochi, tutorial, unboxing, trofei, work truth tutto quello che è del mondo dei videogiochi seguite il mio canale social Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e Discord sempre cercatemi come Marco Drums Games Marco Drums tutto attaccato Marco Batteria io ero un batterista oggi ok, mi guardo via questo vi ringrazio di aver visto il video di solo me questo gioco è fichissimo così vedete il gameplay al massimo ve lo potete girare giù o se non avete il plus vedere di fare il mese di plus o l'anno e comunque da giugno ragazzi cambierà tutto il servizio di abbonamento di Playstation e diventerà qualcosa di più di diverso ok amici miei quindi io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video con Marco Drums di Siena ciao a tutti 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 ciao a tutti